Il 68% degli italiani non conosce oppure non vuole sentir parlare, cioè non ci sopporta, del popolo della famiglia. C'è poi un 32% che prende in considerazione, secondo XE, il voto al popolo della famiglia. Con diverse gradazioni, ho fatto fare un lavoro molto specifico a XE, che come sapete è una casa di rilevazioni demoscopiche importantissima, lavora con la RAI, lavora con tante testate, con Huffington Post. C'è poi un 32% che prende in considerazione il voto al popolo della famiglia. Di questo 32% io escludo ancora una fetta, loro hanno fatto tutta una gradazione, quelli che lo considerano al 10% come ipotesi, al 20%, al 30%, al 40%, io fino al 40% non considero probabile il voto al popolo della famiglia, quindi lo escludo dal potenziale. Quelli però che vanno dal 41% in su sono oltre il 13%, quindi il nostro potenziale, secondo XE, che conferma il dato di IPR Marketing, va oltre il 13%. Ovviamente io non voglio illudere nessuno, noi non prenderemo il 13%, perché non li convinceremo tutti, ma basta convincerne, lo ricordo, la metà della metà. 13 diviso 2 fa 6,5, diviso 2 ancora fa 3,25%. È il superamento dello scoglio del 3%, questo vorrebbe dire l'elezione, pensate un po', di oltre 30 parlamentari del popolo, quindi la famiglia. Questo vorrebbe dire chiudere la stagione delle leggi contro la vita e contro la famiglia e aprire probabilmente la stagione del reddito di maternità, del quotiente familiare, della libertà scolastica, del contrasto alla cultura dell'aborto e dell'eutanasia. L'altra cosa estremamente rilevante è la provenienza dei voti al popolo della famiglia, anche questo ho fatto sondare da XE, per capire se era vera l'altra grande menzogna, l'altra grande menzogna, che noi stessimo indebolendo il centrodestra e dunque facendo un favore a centrosixta di fare un quadro da dove arrivava il voto al popolo della famiglia. Noi abbiamo uno zoccolo duro nostro, che viene dall'astensione, cioè da gente che non vuole la più. Ed è la maggioranza delle provenienze, cioè in termini di maggioranza proveniamo da un'area di non voto agli altri. Lo 0,1% ci viene aggiunto da Forza Italia, lo 0,2% dal centrosinistra, lo 0,2% dal Movimento 5 Stelle, lo 0,2% dalla Fratelli d'Italia, lo 0,3% dalla Lega. Questo è il range di provenienze, c'è anche uno 0,1% dai cosiddetti altri partiti, immagino forse tipo Casa Pound o roba del genere. La stragrande maggioranza degli eletti di centrodestra non ha votato contro le DAT. La stragrande maggioranza. Su 50 membri del gruppo di Forza Italia hanno votato contro le DAT in 12, su 50 membri. Su 19 membri della Lega hanno votato contro le DAT in 6 e su 11 membri del gruppo di Fratelli d'Italia in 4. Non ci coalizziamo perché la coalizione ha elementi che ti costringono a un'ambiguità di fondo. Se ti coalizzi, come è stato evidente nella legislatura precedente e come è ancora più evidente oggi, i tuoi voti nei collegi uninominali li porti per eleggere, ho fatto i nomi, Maurizio Lupi, Stefania Prestigiacomo, Renata Bolverini, Renato Schifani, un elenco lunghissimo di decine e decine di personaggi che sono stati magari per finta vicino al Family Day, poi l'hanno tradito e hanno votato a favore della legge Cidinna, per esempio. Tutti hanno votato a favore del divorzio breve, quasi nessuno ha votato contro le DAT. Se tu sei coalizzato, il tuo voto va ad eleggere quelle persone e noi non sosteniamo in nessuna maniera i traditori della piazza del Family Day. L'unica maniera che abbiamo per cambiare questa situazione, non sostenere con i nostri voti i traditori della piazza del Family Day e costituire le condizioni per una presenza parlamentare di persone a difesa di principi non negoziabili ed essenziali, è candidarci da soli, prendere i nostri voti, non darli evidentemente a nessuno di quei traditori e condizionare nella prossima legislatura la formazione eventuale di una maggioranza di governo in cui noi entreremo solo se ci faranno fare subito il reddito di maternità e se potremo condizionare in termini determinanti il varo di qualsiasi legge contro la vita e contro la famiglia. Contrari per scelta politica a riportare in Parlamento chi ha tradito il popolo della famiglia riunito al Circo Massimo e a San Giovanni. Per questo e solo per questo ci candidiamo in posizione autonoma per costituire un'alternativa politica pronta a collaborare eventualmente con maggioranze di governo per condizionarle. Come sapete Silvana De Mari era prima pensata come nostra capolista, poi ha avuto problemi anche di salute e ha preferito non affrontare questa fatica che è enorme e lo capisco perfettamente. Abbraccio Silvana. Silvana ieri è venuta a firmare le nostre liste in Piemonte dimostrando ancora una volta l'attaccamento al popolo della famiglia.